Ehi, Pedrito, a quanto lo dai il nero, caro papà? Lo do a 15! Padroncito! Padroncito! 20 pesos sopra il nero! E ora, via i cinturoni! Metteteli sul tavolo! Il nostro beneamato, Presidente, ha proibito i duelli! Però, se le pistole sono sul tavolo e qualcuno le adopera per legittima difesa allora tutto è regolato! Siamo pronti? Conterò fino a dieci! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Senti! Mi dispiace rimandarti all'inferno con una brutta notizia ma non ero qui per te Non sono più sceriffo Adesso io lavoro per mio conto E per una cifra molto più grossa dei tuoi sporchi mille dollari di taglia Comunque, è stata una bella soddisfazione